Buon pomeriggio e buona serata da Giuseppe Recca, il nuovo spazio dedicato alle notizie quotidiane. Ancora un bollettino preoccupante per la provincia di Agrigento in tema di contagi da coronavirus. Sono stati 116 nuovi casi di positività al covid riscontrati sulla popolazione, 5 nuovi ricoveri di cui uno in terapie intensive e altri 5 decessi. La situazione resta critica, Sciacca, 4 nuovi casi hanno portato a 36 il totale delle persone positive. Il bollettino dell'ASP riporta inoltre i 14 nuovi casi a Ribera che hanno fatto schizzare a 29 il numero delle persone contagiate. Ma nuovi contagi ci sono stati anche a Santa Margherita Belice che sale a 12, Menfi dove 5 nuovi contagi hanno portato il totale a 21. Sono 4 i pazienti in terapia intensiva all'ospedale di Ribera, 25 le persone in degenza ordinaria all'ospedale di Agrigento, 23 al Fratelli Parla Piano, 6 ricoverati in ospedali fuori provincia e c'è anche una novità, quella che riguarda l'ospedale di Sciacca dove è stata riaperta l'area covid del Giovanni Paolo II e ci sono già 4 persone ricoverate. La crescita dei contagi in provincia di Agrigento e i ricoveri hanno obbligato l'ASP a trovare ulteriore disponibilità di posti letto a Sciacca. Già erano in stato di allerta da alcuni giorni. Firmato oggi dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti un'ordinanza con disposizioni provvisorie straordinarie per le giornate dal 13, 14, 15 e 16 agosto, il contenuto del provvedimento è stato predisposto dal comando della Polizia Municipale in considerazione dell'evoluzione dei contagi in Sicilia per salvaguardare al massimo livello possibile la salute e l'incolumità pubblica. Dalle ore 8 di domani, tra le altre cose, si prevede e fino al 16 agosto divieto assoluto di effettuare falò, bivacchi, assembramenti su tutto il territorio comunale, comprese le aree demaniali e il divieto assoluto confermato di vendere prodotti alcolici da asporto. Non solo la drammatica situazione coronavirus con una gestione da parte del governo regionale che continua ad essere approssimativa, ma ci sono anche altre emergenze sanitarie in Sicilia che non bisogna sottovalutare. Lo dice il deputato regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro che evidenzia anche in una nota odierna la preoccupazione che si sta vivendo a Licata dove ci sono seri rischi di vedere ridimensionato, addirittura chiuso, l'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, punto di riferimento sanitario della parte orientale del territorio provinciale. Catanzaro solleva anche il problema dell'ospedale di Sciacca dove non si parla più della Stroke Unit che avrebbe dovuto elevare il livello di assistenza che era nata prima dell'emergenza coronavirus e che è stata poi accantonata. Dopo due serate di cabaret al Giardino del Museo del Carnevale, l'artista Pippo Graffeo torna in scena stasera nell'ambito del programma Sciacca Estate 2021 con uno spettacolo teatrale tratto dalla storia medievale di Sciacca e incentrato sull'amore tormentato della contessa Giuditta Normanna. In scena insieme a Pippo Graffeo, a Narita Maretta, a Franco Bruno e il ballerino Giuseppe Barcelona, uno spettacolo che si annuncia emozionante con poesia e saltazione di una passione d'amore. L'inizio è previsto alle ore 21 e 15. Ci fermiamo qui, grazie, buona serata e buona festa.